Io voglio sapere se stasera vado a casa, torno a Milano e voglio preparare il lievito madre e metterlo lì per poi essere tranquilla. Come faccio? Allora, lo prendi, lo rinfreschi. Prendo la farina. Allora, come si fa proprio dall'inizio? Ah, dall'inizio. Dall'inizio tu la prima volta prendi 200 cremi di farina, parliamo sempre di farina. Macinata a pietra, sicuro non c'è problema. Quindi la materia prima è importantissima. Prendiamo 200 grammi di farina, 100 grammi di acqua, più o meno, 110, 120, dipende quanto assorbe. Deve essere un bel panetto morbido o comunque consente. Ok, lo prepari, lo metti in una ciotolina, copri con un canovaccio bagnato doppio e lo lasci in una parte della cucina e non lo tocchi. E non lo tocco. In un tempo X, che sono due giorni, tre giorni, avverrà una fermentazione. In base a che cosa? Ai microrganismi che ci sono nell'aria. Che ci sono nell'aria, certo. Nell'acqua, nella farina, avverrà una fermentazione naturale. Perché i microrganismi che sono nell'aria si vanno a nutrire degli zuccheri e quindi creano una fermentazione. Il mio lievito madre è già pronto. No, andiamo. La prima volta, dopodiché, dopo questi tre giorni, riprendi quello, quel lievito. Lo ribagno. Gli metti la stessa quantità di farina, la metà di acqua, lo rimpassi e lo lasci lì. E lo rilascio lì. E lievita prima. Quindi devi fare una serie di rinfreschi giornalieri, una quindicina di giorni, in modo che si attiva di microrganismi. Bene, quindi è bello carico. E quindi dopo 15 giorni, praticamente, posso cominciare a panificare con il mio lievito. Bellissimo.